L'annunciato pomeriggio di sit-in e proteste da parte dei No Green Pass per dire no alla certificazione verde, che aveva interessato anche la stazione di Pesaro, alla fine non c'è stato. Situazione comune anche nel resto del paese. Le manifestazioni, attese in oltre 50 stazioni ferroviarie d'Italia per dire no alla certificazione verde nella giornata in cui questa diventa obbligatoria per i trasporti a lunga percorrenza e quindi per treni ad alta velocità, aerei o navi, hanno registrato una partecipazione pressoché assente. A Pesaro l'arrivo dei manifestanti era atteso a partire dalle 14. Diverse unità di polizia, già dalla tarda mattinata, erano schierate sul posto per monitorare l'andamento della situazione. Circa una ventina gli agenti pronti ad intervenire per garantire la corretta circolazione ferroviaria ed evitare eventuali disordini e disagi per tutti i passeggeri in partenza o in arrivo. Anche la viabilità intorno all'area attenzionata non ha mai registrato criticità o episodi di disordine. Gli agenti si sono limitati a chiedere i documenti ad un gruppo di ragazzi che stazionava davanti all'edificio, i quali però non sono stati identificati come manifestanti. La polizia ha sorvegliato l'intero perimetro per diverse ore. A transitare sono stati soltanto i viaggiatori. Gran parte di questi non sembrava essere a conoscenza delle proteste annunciate, motivo per il quale si sono registrate discrete affluenze di passeggeri sia in salita che in discesa dai treni. Diverse contrastanti in ogni caso sono le opinioni registrate tra i presenti in merito all'obbligatorietà del pass e alle contestazioni annunciate. Ad ogni manifestazione c'è sempre il caos. Se volete farmi una vera e propria manifestazione andate a vaccinarvi. È quella la vera manifestazione. Fa molto favorevole a questa manifestazione in quanto io sono molto contrario al Green Pass e a tutta questa limitazione della libertà per ogni minima cosa. Quindi soprattutto sui mezzi pubblici io chiedo a che vengano abolite tutte queste restrizioni soprattutto sui treni ad alta velocità e vorrei che chiunque sia libero di viaggiare anche sui treni ad alta velocità intercity. Io personalmente non devo prenderli spesso però mi vorrei unire a questa manifestazione perché sono favorevole a chi è contrario. Nel frattempo sono stati aggiunti al programma di sit-in promosso dai No Green Pass altri momenti nei quali i manifestanti potrebbero riunirsi per protestare anche nella stazione pesarese. Per questo motivo i controlli della polizia nell'area proseguiranno anche nel pomeriggio di domani e nella mattinata di venerdì.